buonasera a riccardo frattini avvocato e scrittore un'occasione per per chiedere quale sia così l'onda la cultura del diritto che è quella di media a che cosa fanno a che cosa fanno riferimento oggi quando si riferiscono al diritto come potrei chiedere a un filosofo a quale filosofia fanno riferimento in generale i filosofi oggi e quindi la stampa a quale filosofia è interessata ecco quando la stampa si interessa al diritto senza entrare nel come dire nello specifico di vostri studi che cos'è che interessa a che cosa fanno riferimento grazie a te riccardo prego buonasera buonasera a tutti beh allora io vedo che sostanzialmente in media si occupano di due questioni fondamentali negli ultimi anni allora intanto la questione che è più di attualità e che interessa di più è quella collegata alla politica quindi diritto costituzionale lineamenti basi del diritto costituzionale perché quando nasce un problema di crisi di governo di rapporti tra governo e parlamento presidente della repubblica io vedo molti articoli anche di costituzionalisti famosi che si ho che spiegano con il modo molto divulgativo quindi modo a tecnico però comunque insomma con con precisione qual è il diritto costituzionale quindi piccoli della costituzione che si applicano per spiegare le varie problematiche giuridiche io vedo molto anche non li seguo moltissimo vedo molto anche nei dibattiti televisivi che vengono invitati molti costituzionalisti tra l'altro molti costituzionalisti o esperti di diritto eh pubblico sono anche dei politici io ricordo per esempio la mia professoressa di diritto costituzionale all'università di ferrara è stata eh lorenza carlassare non so se hai presente era stata una dei candidati alla presidenza della repubblica da parte dei cinque stelle lei è una studiosa del diritto che viene dall'università di padua e è stata molto intervistata negli ultimi anni proprio per questioni inerenti eh la formazione del governo i rapporti tra il governo e il parlamento che poteri ha il presidente della repubblica eccetera eccetera quindi questa è la la questione fondamentale che interessa i media oggi è comunque una questione interessante perché pone comunque tutta una serie di aspetti che eh intanto non tutti conoscono e poi ha un carattere comunque eh anche di dibattito che comunque ha un suo un suo aspetto di interesse perché ovviamente poi la dottrina ha non è sempre univoca quindi ci possono essere delle teorie anche contrastanti insomma no ecco l'altro grande questione che interessa la stampa dal punto di vista giuridico è quello della riforma della giustizia si parla da anni di riforma della giustizia soprattutto in italia quindi eh i processi che sono troppo lenti e non non riusciamo a snellire a smaltire diciamo eh l'arretrato e quindi si va a discutere su cosa si può fare per eh riformare il sistema giustizia in italia e questo è un aspetto molto più tecnico dell'altro che riguarda soprattutto la procedura quindi la procedura civile e la procedura penale questi sono i due temi che più vengono discussi e quindi il la è chiaro che per eh per fare questa riforma eh bisogna eh ben intendere che cos'è che ha reso così eh così patidermica così venta la processualità in Italia e altrimenti come intervenire cioè solo giuridica un tamponamento quali sono le idee le idee che più ha reso intorno a questo cioè perché si può adebitare tutto allo spirito burocratico abbiamo capito tutto non abbiamo capito niente e e va avanti questa riforma che non si mai ma ne so un po' da un punto per esempio le questione no no la questione è interessante ci sono due tesi fondamentali la tese degli avvocati e la tese dei magistrati ovviamente per questioni politiche la tese dei magistrati ha molto più peso della tese degli avvocati perché noi avvocati essendo sempre numerosi in ambito politico non riusciamo mai a fare massa critica e avere un peso quanto hanno invece i magistrati questo è un dato di fatto allora i magistrati dicono la crisi della giustizia è quella degli avvocati semplicemente molto semplicemente perché rallentano perché rallentano perché hanno tattiche dilatoriche perché si fanno pagare in base alla durata di un processo quindi più il processo dura più l'avvocato guadagna mentre noi magistrati saremmo tutti molto solerti e veloci se non ci fossero delle lungaggini dovute al diritto di difesa intanto da arrivare a sostenere da parte di qualcuno che il diritto di difesa che è un diritto garantito nella Costituzione sarebbe quasi un impedimento sarebbe quasi un impedimento perché il giudice senza avvocato lavorerebbe meglio questo è un po' il succo del discorso e viceversa gli avvocati ma ripeto hanno molto meno peso politico dicono che il problema risiede fondamentalmente nella magistratura perché ci sono soprattutto delle sacche in Italia dove si lavora male e si lavora meno fondamentalmente questo è un dato di fatto per cui è una questione aperta i magistrati tendenzialmente che cosa propongono di togliere a loro carico di lavoro per cui si tende a introdurre delle forme diciamo di soluzione delle controversie che non sono giudiziali tipo la media conciliazione per esempio che in molte materie è diventata obbligatoria per esempio nel processo civile dove c'è un mediatore professionista che può essere un avvocato o un ex giudice o un commercialista comunque può essere anche però un ingegnere può essere anche un consulente tecnico che tenta una mediazione prima e al di fuori del tribunale questa è la strada che ultimamente si sta seguendo in Italia sì quindi non arrivare neanche in tribunale fermare la questione prima sì e sembrerebbe che potesse risolversi quasi da come lo dici come un problema d'organico tipo radocchiamo i magistrati ce l'abbiamo fatta questa sarebbe la soluzione che auspicano gli avvocati il problema è una carenza una carenza di organico non solo dei magistrati ma anche dei cancellieri perché buona parte del lavoro poi la fanno i cancellieri adesso con l'introduzione di un processo di tipo telematico dove noi avvocati non andiamo più fisicamente in cancelleria ma tutta la documentazione si scambia telematicamente in teoria il compito delle cancellerie si sarebbe dovuto snellire di molto in realtà i tempi non sono non sono non si sono accorciati e qui si probabilmente entra in gioco la burocrazia c'è qualcosa che non è perfettamente chiaro in questo meccanismo però se io non devo andare in tribunale a rompere le scatole perché per loro è una rottura di scatole non gli faccio perdere tempo non hanno attività di sportello ma basta semplicemente aprire delle PEC e controllare quello che c'è scritto in teoria i tempi si dovrebbero almeno ridurre in maniera considerevole cosa che non è comunque allora si dice se noi aumentiamo il numero dei magistrati e il numero dei cancellieri risolviamo in buona parte il problema per i cancellieri è stato fatto qualcosa sono stati fatti i concorsi il problema sono i concorsi pubblici perché si accede sempre tramite concorso pubblico è un problema di risorse ovviamente che è un costo in più per lo Stato e prima ti segui una cosa curiosa che c'è chi sostiene nell'ambito giuridico all'estremo porterebbe a ritenere che sia quasi un intraccio il diritto di difesa però una delle cose che emerge negli ultimi processi politici e relativi anche a tutta questa conflittualità intra magistratura oggi che si stanno indirizzando in quella direzione è apprettatissima la parte lasciata vengono abbreviati i testimoni le testimonianze gli interventi degli avvocati di difesa il processo sta scivolando perché la Chima che tra l'altro non è favorevole agli uffici alla sua natura questo è un problema da noi questo è un problema cioè qui abbiamo una questione fondamentale che da noi è l'obbligatorietà dell'azione penale quindi il pubblico ministero è un soggetto diverso dal giudice perché il giudice è colui che giudica e il pubblico ministero è colui che porta avanti l'accusa e la porta avanti per conto dello Stato all'obbligo di esercitare l'azione penale questo comporta un carico di lavoro notevolissimo per i tribunali quindi come snellire bisogna accorciare in qualche modo i tempi della giustizia per questo dico molto spesso l'avvocato è visto come un intraccio soprattutto da parte non tanto dei magistrati ma dei pubblici ministeri perché il pubblico ministero che è la nostra controparte in un processo che fosse pienamente di tipo accusatorio quindi da una parte l'accusa dall'altra la difesa con pieni poteri ok chiaramente meno influenza e meno peso ha l'avvocato meglio riesce a giocare le proprie carte e quindi ad esercitare l'azione penale il pubblico ministero mira alla condanna una provocazione intorno a questo dibattito come era una norma costituzionale con la repubblica di Weimann che permetteva in quella situazione di dare pieni poteri al presidente guarda caso proprio per quella norma che si è inquilato Hitler quindi raggiunge il potere legalmente non lo tiene per un colpo di stato ma poi diventa dittatoriale sfruttando proprio quella norma allora non è che per me non è che povera domanda non è che sia il rischio no il rischio è già stato comunicato è già in pratica ma diciamo non è che ci si infilano in modo particolare chi vuole regolare giuridicamente un problema politico e solamente politico faccio un esempio perché sembra che non sono molto chiaro lì e Berlusconi a suo tempo non è stato fatto fuori politicamente è stato fatto fuori con i processi con gli accusi ok mi ricorda senza fare paragone tra l'uno e l'altro ma la modalità è stata impiegata negli Stati Uniti a suo tempo per fare fuori i grandi mafiosi non riuscivano a incastrarli li hanno incastrati con la finanza in quel caso e quindi con tutt'altra 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 diputazione questo modo permette di attaccare c'è chi è attaccato politicamente laddove il diritto di intesa sarà sempre eserciato di meno per fare per sbrigare meglio diventa diventa un massacro cioè diventa facilissimo sfruttare una porta aperta che non è come dire una porta di diritto recentemente altra questione recentemente no il più grosso attacco che è stato fatto negli Stati Uniti tra quelli tra l'uno e l'altro tra il presidente uscente più o meno uscente e il presidente più o meno entrante è stato un attacco della mensi pelosi psichiatrico e ha definito instabile quindi anche lì sembra ad essere in Russia non è che viene fatto fuori perché politicamente non più valide no viene fatto fuori perché psichiatricamente non è sano mentalmente è stato fatto fuori così un presidente in Tunisia quello prima di 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 la mia domanda è quella non è che è anche già sfruttata questa modalità che mi permette cioè permette degli abusi enormi questo insomma sì il pericolo il pericolo c'è poi diciamo che fortunatamente in Italia c'è ancora e qui è un po' un paradosso di fatto perché le due figure quella del pubblico ministero e del magistrato giudicante sono veramente distinte nel processo cioè non sempre quindi non è detto che la proposta del PM del pubblico ministero venga accolta poi dal giudice pur essendo due colleghi che hanno la stessa carriera professionale perché non c'è una netta separazione e questo è stato un cavallo di battaglia per esempio di Berlusconi no la netta separazione delle carriere quindi il PM si avvia su un percorso e farà solo quello nella sua vita il giudice si avvia su un altro percorso e farà solo quello senza che ci siano salti e intromissioni da una parte e dall'altra questo sarebbe auspicabile per esempio dicevo il giudice e il magistrato giudicante fa il magistrato giudicante ancora fortunatamente in Italia per cui questo è una garanzia io ho ancora fiducia nella magistratura il pericolo adesso non per citare sempre Berlusconi però è stato il caso più eclatante degli ultimi anni insomma il pericolo viene da certi PM che se sono politicizzati rischiano rischiano veramente di interferire nella vita politica nazionale mi ricordo un avviso di garanzia che è stato notificato a Berlusconi quando c'era un G8 mi sembra se non sbaglio qualche anno fa proprio con una forma eclatante di manifestazione quasi di di onnipotenza insomma ecco per fortuna poi il pubblico ministero deve andare davanti a un giudice con l'avvocato difensore dall'altra parte e non è detto che l'abbia sempre vinta lui ecco questo però c'è un po' la tendenza c'è un po' la tendenza da parte diciamo della magistratura di coprire certi vuoti politici e secondo me i vuoti politici derivano da una crisi anche della politica perché non ci sono più i partiti di una volta non ci sono più le ideologie di una volta ok c'è un vuoto c'è un vuoto forse anche di personalità forse anche di personalità cioè noi noi non so chi sia questo di noi io io colgo che in questo caso per essere breve che il panorama è cambiato nel modo in cui l'annuncia il principe Tomasi di Lampedusa nel Gatto Pardo dove Don Fabrizio dice noi eravamo i Gatto Pardo e dopo di noi verranno le Iene dei sciacalletti allora lo dico è anche facile dire beh adesso siamo governati da Iene siamo governati dai sciacalletti ma è un lamento più che occidentale ormai cioè non è che sono di grandi geni nemmeno i presidenti non eccetera eccetera però un attimo però però non è che sia semplicemente pericultura vi si va nel cameriere come se fosse un'offesa intanto è un'offesa per chi lavora ma che si è ridotto tra vi volete a cameriere di Maio no? sì un attimo ma il presidente del consiglio ha è un avvocato appunto no? Renzi che che io non sono né un estimatore dell'uno né un estimatore dell'altro ma Renzi che viene banalizzato con le immagini dove assomiglia al comico inglese e ci assomiglia per davvero ho capito ma c'è in tasca una laurea in giurisprudenza non ha fatto come Conte non c'è riuscito ma è riuscito con 109 sui 110 insomma vuol dire che si è fatti anche bene questi studi e però non corrisponde a una statura non lo so non corrisponde a una non so alla forza che avevano altri perché c'è come dire non ci sono qui da coparvi come moro non lo so perché non lo so neanche perché anche quella sarebbe una questione da dibattere no cioè com'è che è stata spazzata via una certa intelligenza rispetto a quello che è venuto dopo non so rispondere ti pongo una questione ancora rispetto a questi ultimi dettagli sì che cos'è no allora se posso dire che la legalità non so se è anche la resittimità forse anche la legalità e la resittimità dell'avvio di Hitler non mi scuso per questi esempi così forti che poi parlo di cose che non sono post-nazismo ma permettevi intendere è entrato per una porta legale legale allora rimane anche per capirlo c'è una porta legale per la quale sono entrati un certo tipo di magistratura che oggi sembra solo clientelismo no perché non è un clientelismo come un altro è un clientelismo di una sponda io che non sono giovane e quindi era un giovane nel 68 io ho captato avendo avendo fatto parte per un anno per un anno solo ma importante del gruppo di radicali io avevo accolto con tutti coloro che erano di sinistra ma i radicali non erano tutti di sinistra c'era tanto radicalismo che veniva il liberale che veniva da pannella in particolare anche Mauro Melini per me è stato un punto di riferimento diciamo per le letture per 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 e e quindi avevo notato che tanti di sinistra erano entrati in magistratura per prenderla dal di dentro lo posso dire tranquillamente ma era banale era ciascuno che che aveva a che fare con i vari gruppetti politici poteva capire questo e mirare il cuore dello Stato c'era chi entrava da dentro chi entrava da fuori questa questa barzelletta c'era solo per intendere ma c'è qualcosa che lo permette giuridicamente o è semplicemente che e allora sarebbe per dire così più e sarebbe un crimine insomma temerese cioè non c'è nessun modo giuridicamente di entrare nella questione allora chiaramente è un clientelismo come qualsiasi clientelismo cioè trattato come clientelismo quindi non può funzionare che poi funzioni in altri paesi di maniche ma ma se noi andiamo a fare il concorso e tu lo vinci perché nemmeno scrivi il tema nemmeno fai niente perché ti hanno già dato il posto ma se io legalmente ti incrimino arrivo ad avere degli elementi sono io quello che ti ha passato il compito e tatti ne so non è che te la cadi sempre bene perché cioè è la differenza tra non aver commesso un crimine e trovarsi lì per cui se se politicamente se economicamente se per qualsiasi ragione qualcuno con tutta altra mentalità della maggior parte di allora ma ma questo capita dappertutto nei giornali nell'industria negli uffici cioè io vado a studiare da 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 adottare giuriscrivenza può darsi che vi esce un magistrato di sinistra per dire così però questo non è un crimine cioè è la è la dialettica civile cioè ben venga che si sia riuscito ma ma rimane aperta la questione cioè non è che questo porta a che è un gruppo che di questi che va a dominare tutto il consiglio superiore della magistratura per anni e se e se lo diceva trent'anni fa Mauro Medini partito dei dei magistrati che recentemente qualcuno dei magistrati critici ha pure detto che questo partito è spaccato cioè io parlo della fitna no la guerra araba interna il cannibalismo non è che che risparmia i cannibali no c'è anche interno c'è anche tra me e te no certo c'è altri esempi storici no Saddam Hussein ha cercato di uscivere tutti i potenziali successori anche in famiglia no ha ucciso cugini mi pare eccetera ora ti lascio questa bella questione cioè no allora è un complice clientelismo di sinistra che lascia tuttora la magistratura in mano a una parte della magistratura il magistrato Andrea Mireida ha scritto no che il 90% dei magistrati non ha può nemmeno se sono i migliori come si presume nelle 200 fasi per scegliere i migliori che hanno fatto può avere accesso alle cariche più importanti quindi in teoria c'è un 10% di cui una parte che si mantiene questa zona di alta influenza magistrale allora la via di accesso in Italia è il concorso pubblico cioè io accedo alla magistratura tramite un concorso pubblico chiaramente ho letto qualche commentatore che diceva questo concorso non è dissimile da quello che si fa per andare a lavorare alle poste ok o per fare i postini è più o meno lo stesso concetto chiaramente è un lavoro più interessante è un lavoro più retribuito è un lavoro più appetibile ok io conosco moltissimi anche amici che sono diventati dei bravissimi magistrati anche pubblici ministeri e che non sono politicizzati e credo che il discorso sia un discorso clientelare cioè di fronte a un grande numero di magistrati che non hanno un orientamento politico dichiarato corrisponde un altro numero sicuramente più basso che ha invece un diciamo uno sbilanciamento politico e che però riesce a fare partito questo forse è il famoso partito dei magistrati no cioè riesce a fare lobby riesce a fare lobby e riesce a accedere le cariche più importanti anche all'interno del consiglio superiore della magistratura ad avere dei ruoli di prestigio e quindi poi diventa una questione clientelare credo che sia una questione di numeri così come le grandi società quotate in borsa non sono comandate da chi ha il 50% più uno in assemblea ma basta avere il 10 15% perché gli altri non sono organizzati e non partecipano quindi chi ha una minoranza però qualificata riesce comunque ad avere ad avere la preminenza io credo che sia un discorso clientelare perché poi conosco molte persone per esperienza mia personale che non hanno mai che sono magistrate che non hanno mai fatto politica mai e mai la faranno presumo che non faranno neanche una gran carriera ma forse probabilmente a loro va anche bene così non credo che lì sia una questione di ingresso privilegiato per alcuni piuttosto che per altri credo che poi la differenza la faccia la tessera ma non deve essere per forza la tessera del partito anche dell'associazione di categoria cosa che invece come dicevo prima non avviene per gli avvocati perché noi abbiamo tantissimi esponenti al governo tantissimi esponenti al Parlamento però siamo di cani sciolti non c'è un partito degli avvocati e questo si vede perché siamo una professione in profondissima crisi e quindi è interessante la proposta del magistrato che ho citato di Andrea Mirenda di introdurre la rotazione cioè trattiamo la cosa com'è nel modo più evidente c'è una clientela e mettiamo la rotazione delle delle caride allora è il nostro sistema che poi il nostro sistema si basa sulla indipendenza sulla indipendenza della della magistratura no? Quindi la famosa tripartizione del potere legislativo esecutivo giudiziario indipendente l'uno dall'altro che si controlla la nuova vicenda questo è l'ossatura della nostra costituzione ma in altri stati non è così perché per esempio il pubblico ministero è un dipendente del ministero degli interni in altri stati da noi invece è un dipendente del consiglio superiore della magistratura questo è così importante appartenere al consiglio superiore della magistratura perché decidi perché decidi la sorte dei tua e dei tuoi colleghi chiaro che poi lì ci sono delle componenti anche politiche perché non tutti i membri del CSM sono eletti dai magistrati una parte è nominata politicamente quindi dal Parlamento e quindi non è una cosa solamente lobbistica insomma c'entra anche la politica per questo è il connubio che poi può creare dei problemi ma parliamo per esempio degli Stati Uniti d'America i pubblici ministeri vengono eletti i pubblici ministeri in America vengono eletti i procuratori generali dello Stato per cui se uno non si comporta bene o non piace non viene eletto semplicemente c'è un metodo completamente diverso noi andiamo quindi noi parliamo di una possibile riforma del consiglio superiore della magistratura perché è un organo costituzionale previsto da noi ma teniamo presente che in altri Stati questo organo non esiste bene Riccardo io ti ringrazio e se proseguiamo speriamo un piccolo più spero io ti ringrazio di avere accolto l'invito anche di discutere più avanti di questo piccolo e denso volume di Filippo Sgubi che se n'è andato l'anno scorso ed è proprio il diritto penale totale il titolo solo ha provocato il mio interesse e quel che c'è dentro puro bene grazie a Riccardo grazie a te arrivederci grazie a te